Questa mattina Peppino avrebbe dovuto tenere un comizio di chiusura della campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. Non ci saranno più trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. Sì, non sorprendetevi perché è andata proprio così. I carabinieri lo dicono, lo dice pure il magistrato. Hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. E Peppino per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Va alla ferrovia, cade contro un sasso, macchia di sangue tutto intorno, poi si avvolge nel tritolo e si fa saltare per aere sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola giù dalla questura centrale di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta giù su un traliccio dell'Enel. Questo leggerete sui giornali, questo vedrete alle televisioni. Anzi no. Non vedrete proprio niente. Perché questa mattina giornali e televisioni parleranno di un fatto molto più importante. del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldomoro ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E si sa questa è una notizia che fa impallidire tutto il resto, quindi chi se ne frega? Chi se ne fotte del povero siciliano di provincia? Chi se ne fotte di Peppino Impastato? Adesso voglio che mi facciate un favore, spegnete questa radio, giratevi dall'altra parte. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo tranquillo. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quella che Peppino non aveva. E noi siciliani diciamolo una volta per tutte che noi la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, no, certo che no, perché ci appartiene. Perché ci identifica. Perché ci dà sicurezza, perché noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato nient'altro che un povero illuso, sei stato un ingenuo. Sei stato un nudo mascato con niente.